Oddio! Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su GTA V, siamo qua in questo nuovo episodio dedicato alla moda e all'SPDFR e giocheremo come poliziotto. Questo è il nostro collega e questa è la macchina che useremo, una Chevrolet Corvette ZR1. Comunque perché siamo qua? Siamo qua perché ci è stato segnalato che su questo tratto di strada che si chiama Grit Ocean Highway, la gente non rispetta la velocità, corre come se non ci fosse un domani ragazzi. La velocità qua sopra è di 50 miglia, però comunque ci è stato detto che la gente corre non rispetta i segnali e se ne frega. Ed è per questo ragazzi che siamo qua per fare un po' di autovelox con questo, il Pro Laser ragazzi, che ci indica comunque a quanto vanno le macchine. Per esempio io faccio così e ci dice questo Benson a quanto sta andando, in questo caso 28, poi abbiamo quella moto, la Bati 42, ok? E quindi più o meno possiamo vedere a quanto vanno questi e nel caso poi li fermiamo. Possiamo metterci subito a lavoro, vediamo se c'è qualche maledetto che non rispetta le regole, abbiamo un attimo alzato il range a 55 migliorarie, anche se comunque qua la strada prevede che si va a 50, però comunque non vogliamo fare i rompiscatole, va bene, ok? Mo' che si sbagliano di 5 migliorarie non fa niente. Comunque ragazzi questa macchina qua è veramente una bomba, dopo ve la faccio pure vedere in un'azione, se nel caso fermiamo qualcuno. Oh, c'è una moto che batte a velocità ragazzi, innanzitutto vediamo il furgone. Ok, vediamo questo. Su, super, 49 all'ora, ok 48. FQ2, 26 migliorarie. La Bati, 53, ok, 53. Ok, 53 migliorarie, si è salvato di 2 quello. Oh, la balle era a 56, ok. Vieni, vieni collega, fermiamo quella macchina lì. Eccolo qui ragazzi. Accosti sulla destra. Ok, vieni, vieni. Andiamo a vedere che si dice. Buongiorno. Mi dia un po' i documenti per favore. Hi. Kiplum. Kelly Barbera. Andiamo a controllare sul computer. Kelly Barbera, vediamo un po'. Licenza di guida sospesa. Attenzione. Licenza di guida sospesa, ragazzi. Signora. E quindi? Ho controllato la patente sospesa. Che si fa qua? Stava pure correndo. Perché stavi accelerando? Non ero a conoscenza dei limiti di velocità. Ah, bella scusa questa, signora. Bella scusa. Da dove vieni? Dall'inferno. Dall'inferno, ragazzi. Dove stai andando? Sto andando a lavorare. Sì, certo. Correndo e con la patente sospesa. Signora. Scenda un po' dal veicolo, dai. Scenda un po' dal veicolo, per favore. Allora, ragazzi. Direi comunque di controllarla, questa. Allora. Binocolo. Fotocamera attascabile. E cartolina. Va bene. Va bene. Comunque lo sa che lei non può guidare senza patente. Lo sa. Lo sa questo. Quindi lo sa che adesso il veicolo verrà sequestrato, no? Perché non può guidare così. Hai citazioni? Non ricordo. Comunque, ragazzi. Controlliamo anche il veicolo. Allora. Posta di guida. Paio di sandali. E palla da calcio. Se direi del passeggero, niente di interessante. E nel bagagliaio, set di cavi jumper. Ok. Non c'è niente di particolare. Comunque, signora. Questa macchina io gliela sequestro. Ok? Io gliela sequestro la macchina. È per forza, ragazzi. Chiamiamo il carroattrezzi. Eccolo lì. La cosa che posso fare io adesso a lei è chiamarla un taxi perché non può guidare senza patente. Le chiamo un taxi. Signora, mi ha trovato bene stamattina. Non le faccio la multa ma il veicolo verrà sequestrato. Arrivederci. Perfetto, ragazzi. Per forza. Dovevamo? Dovevamo? Quella signora stava senza patente, ragazzi. Con la patente sospesa. Dove vuole andare? Dove vuole andare, ragazzi. Vai, rimettiamoci qui. E vediamo stavolta, ragazzi. Uh, la double. La 64 migliorare. Salga, collega. Ok, perfetto, ragazzi. Guarda quello come corre. Accosti sulla destra. Ok. Ok, ragazzi. Mettiamo un attimo il traffico lento. E andiamo a vedere questo qua perché correva, innanzitutto. 64 all'ora andava, eh. Ah, ok, ragazzi. Ci stanno dicendo che si sente un forte odore di alcol. Favorisco un po' i documenti. Dai, per favore. Ok, questo qua si chiama Tom West. Andiamo a controllare. Tom West. Ok. Licenza di guida valida. Allora, ragazzi. Mo' gli chiediamo perché stavo correndo. Ok, sì. Comunque ci sta dicendo che si sente un forte odore di alcol. Ma ci arriveremo, ci arriveremo. Perché stavi accelerando? Sono nato per accelerare. Guardate questo che risponde, ragazzi. Dove stai andando? Vado a vedere un amico. E da dove vieni, invece? Ho il diritto di tacere. Ah, il diritto di tacere. Guarda che si sente una puzza di alcol che manco immagini tua, eh. Quindi, ragazzi, facciamolo un attimo scendere. Vieni qua, vieni. Ma ti faccio un bel test. Allora. Facciamogli fare il test, ragazzi. Della gamba alzata. Vediamo se riesce a tenerla alzata, la gamba. Eh. Eh, ragazzi, no. Non ce la fa per niente. Non ce la fa per niente, questo. Ecco, facciamo anche questo test. Non riesce a seguire i movimenti della matita, vedete? Infatti è fallito. L'ultimo test che ci rimane da fare, ragazzi, è fallo camminare e vediamo un po' se riesce. Ehi, vabbè. Vabbè, ma quanto sto ubriaco questo, ragazzi. Ma quanto sto ubriaco, ragazzi. ma come cammina? Vabbè, facciamogli l'alcol test, dai. Andiamo un po'. Te lo fa il collega, te lo fa. Thank you. Mamma mia, quanto ha bevuto. Il limite legale è dello 0.08. Questo qua c'è lo 0.103. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ok. Facciamolo arrestare. È per forza, ragazzi. Oddio! Oddio, ragazzi. È scappato. È scappato. Fermo. 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 Oh no, lo prendiamo, ragazzi. Lo prendiamo. Vai. Giù. Giù. Stai giù. A terra. Da questo, guarda. Guarda questo come stava. Però, prima di mandarlo via, dobbiamo un attimo controllare, ragazzi. Vediamo un po' cosa c'è addosso. Alla faccia. Revolver, coltello tascabile e alcune capsule in un contenitore di plastica. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio. E non ha neanche il porto d'armi. Vabbè. Facciamo andare in carcere a questo. Arrestato, per forza, ragazzi. Questo qua, ubriaco. Senza porto d'armi, con una revolver, un coltello tascabile. Salve, collega. Facciamo pure sequestrare il veicolo, ragazzi. Ah, però, comunque, li possiamo controllare. Lo possiamo controllare pure, per vedere se c'è qualcosa. Laptop, MacBook Pro e un sacco di mele. Ok, ma... sequestrato, ragazzi. Ok. Eccolo qui. Mo' si prende il veicolo. Oh, perfetto, ragazzi. Eccolo lì. Oh, ragazzi. Abbiamo una chiamata di... Ho ricercato. Possiamo intervenire, allora. Andiamo, mettiamo le sirene. Vai, che lo prendiamo. Eccolo qui. Perfetto. Vediamo un po', ragazzi, perché questo qua sembra essere ricercato, eh. Oddio! Oddio, aveva estratto un'arma, ragazzi. Aveva estratto un'arma. Oh, mio Dio. Chiamiamo un'ambulanza. Abbiamo stordito a queste. Controlliamo un attimo il veicolo. Allora. Palla da bullying, banconota da un dollaro, coperta di polvere, e... baligetta piena di eroina. Addirittura. Ok, questo qua è uno spacciatore, ragazzi. Sì, sì, se ti prendi, per uno schiaffone in faccia, questo. Lo riprenderanno, ragazzi. Lo abbiamo... lo abbiamo stordito prima che ci sparasse. Mi rendete conto? Vieni, vieni. Patti controlla un po', eh. Mi volevi sparare, eh, tu? Allora. Abbiamo trovato addosso sigarette, pillole di prescrizione illegale, bottiglietta contenente un liquido, trasmette un sacco di polvere marrone chiaro. addio, ragazzi, addio. Facciamogli anche il drug... Facciamogli anche il test anti-droga, visto che posso trasportare l'eroina. E infatti dice che gli occhi sono rossi, quindi mi sa tanto di erba. Ah no, niente? Ok. Comunque dal resto, attiene, capito proprio niente, dal resto. Tu sei sotto arresto, tu peggio di c***o! Questa ci voleva pure sparare, ragazzi. Ok. Portatelo in prigione a Bullying Broke direttamente. Facciamo anche sequestrare il veicolo. Grazie. Flapbed, assistenza necessaria in... Paleto Bay. Colo qui. Comunque ragazzi, questo video finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate, e poi... Ovviamente io continuo anche con la polizia, porteremo sempre cose nuove. Ora abbiamo fatto questo, quella prossima volta possiamo fare qualcos'altro. E dai, fatemi sapere ragazzi, con questo è tutto. E noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!